Come vedete ha una staffa, un treppiede, da spento si presenta così, con questo cerchio, con il portatelefono. Qui abbiamo il cavo, che è lungo circa un metro, un metro e venti, con la nostra piccola console, ed è alimentato a USB. Questo è il ring light da spento, e questo è il ring light acceso, ci sono tre modalità di luce, di tonalità di luce, questa è quella neutra, che vedete adesso. È un po' un incontro fra luce calda e luce fredda, questa è quella fredda, la luce fredda dia più risalto a tipo flash, alla fine mette risalto di tutto. Preci, difetti, dipende un po' da che tipologia di video o di foto dovrete andare a fare. E questa è quella calda. La luce calda dà quell'atmosfera, diciamo, un po' più casalinga, se vogliamo, un po' più avvolgente. La cosa carina che questa luce ha, con questa staffa, ha anche un piccolo telecomando, come detto poc'anzi, che potete aumentare di luminosità la luce, con un piccolo più c'è sul telecomando, o con il meno, la diminuite. Adesso provo a farvi un esempio. Allora, qui siamo al massimo della luminosità, adesso la abbasso e vedete un po' che cala la luminosità. Quindi adesso la vado a riaumentare. Bene ragazzi, siamo in conclusione. Iscrivetevi al canale ragazzi, mi raccomando, dateci un piccolo sostegno, attivate la campanella. E ci vediamo su Instagram, Facebook, Telegram e YouTube. Ciao ragazzi, a presto qui da Il Mondo di Rita Emporio Bazzar. Ciao! Però questo è il Ring Light.